Torrese e Sambuceto si rivedono per il Retour Match che assegna una delle due filaniste alla Coppa Italia di eccellenza. 0-0 all'andata, due risultati utili su tre per i violi ospiti e la Torrese parte subito in quarta. Praticamente nove minuti per gli uomini di Remigio Cristofaro ed è subito vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio franco, una sorta di calcio d'angolo pennellata di Mastrilli per la capocciata inesorabile di Di Lallo che devia in modo vincente in porta. 1-0. Al ventunesimo la Torrese prova a legittimare il vantaggio bravissimo Dedeo a piazzare il piede su Santi Rocco e sette minuti dopo ancora giallorossi pericolosi. 1-2-3 tentativi ai quali si oppongono in qualche modo i viola che resistendo troveranno frutto al minuto 35. Azione roccambolesca, Pellecchia prova la conclusione, Palumbo di fatto tramuta in gol spiazzando Abate 1-1. È una sorta di shock giallorosso che escono di scena fino al termine della prima frazione di gara dove a tempo Pellecchia a farsi notare con il sinistro ben parato da Abate. Squadra negli spogliatoi e ripresa che trova il suo primo acuto al secondo minuto. Leggerezza di Abate che battezza fuori il tiro di Palumbo che invece bacia il palo pieno. Sedicesimo, pressione viola, gioca troppo molle della Torrese che si fa sorprendere da Palumbo che così restituisce a Pellecchia il favore del gol dell'1-1. 2-1, facile facile. Al 21esimo la Torrese ha la possibilità di impattare il risultato di Lallo sotto misura. Si trova il pallone sul piede da calcio da vermo ma la sfera finisce alta. Gol mangiato, gol subito. Il trio Meraviglie timbra il suo cartellino. Ranieri vince un contrasto con un difensore. Si allunga palla e batte in uscita l'incolpevole Abate e quindi fa 3-1. Prova a rientrare in partita la Torrese. Si mette in proprio restaneo. Inizia e conclude l'azione con la complicità di Mosca. Il giovane ci crede con movimento ad arco e va sul 2-3. Da lì in poi grande generosità giallorossa ma il risultato non muterà più. In finale il Sambuceto troverà l'Aquila di Michele De Feudis.